Il Consiglio regionale ha approvato una proposta di legge di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza con 31 voti favorevoli e la non partecipazione al voto del Movimento 5 Stelle che interviene per ridurre gli assegni vitalizi dei consiglieri regionali in carica fino alla nona legislatura. L'atto parte dalla valutazione che la piena applicazione del meccanismo di indicizzazione previsto porterebbe ad un incremento di spesa stimato per l'anno 2023 di circa 700.000 euro per i 184 ex consiglieri che hanno diritto al vitalizio. Tra gli scaglioni individuati dalla legge si stabilisce un tasso di indicizzazione pari al 3% per i vitalizi inferiori a 1.500 euro, al 2% per quelli di importo tra i 1.500 e i 3.000 euro, all'1% invece per i vitalizi di fascia più alta, ovvero superiori a 3.000 euro. Via libera anche a due ordini del giorno collegati alla legge, il primo del Movimento 5 Stelle, illustrato da Irene Galletti, che impegna il Presidente e la Giunta regionale ad attivarsi per modificare il meccanismo relativo ai vitalizi, non prevedendo l'aggiornamento degli stessi, all'indicizzazione Istat. Il secondo ordine del giorno, presentato da Giovanni Galli della Lega, impegna l'esecutivo regionale a proporre al Consiglio regionale, entro sei mesi dall'approvazione del presente atto di indirizzo, una revisione dell'ordinamento regionale volta a superare la rideterminazione annualmente dei vitalizi sulla base dell'indice Istat di variazione dei prezzi, come definito dalla legge regionale 2009. Una scelta importante che tiene conto del quadro economico-sociale che i cittadini stanno vivendo negli ultimi mesi e che quindi va proprio incontro a un'esigenza di razionalizzazione dei costi della politica. La Regione Toscana è l'unica regione italiana che ha deciso di ridurre l'indicizzazione dei vitalizi degli ex consiglieri regionali. È noto che i consiglieri regionali non godono più del vitalizio, sono rimasti in piedi i vitalizi dei consiglieri regionali eletti fino alla nona legislatura compresa. Poiché c'è una norma che impone l'adeguamento di questi vitalizi agli indici Istat, oggi la Regione Toscana ha deciso di ridurre sensibilmente questo incremento e lo ha fatto ancorandosi a dei parametri che si avvicinano in alcuni casi allo zero, proprio per far sì che questo incremento sia da una parte rispettoso del dettato legislativo che ci impone a livello nazionale un adeguamento degli importi dei vitalizi, ma dall'altra parte che sia quanto più possibile contenuto. Una scelta importante che altre Regioni non hanno fatto e che comporterà una riduzione di costi della politica sensibile per la Regione Toscana. Se infatti nulla si fosse fatto a livello legislativo avremmo avuto per i prossimi tre anni, ragionando del bilancio di previsione 2023-2025, un incremento annuo di costi vicino a 750 mila euro all'anno. In questo modo i costi si riducono a circa 90 mila euro all'anno, quindi con un risparmio sensibile che si avvicina ai 650 mila euro all'anno. Un segnale importante che la Regione Toscana e il Consiglio regionale intende dare ai cittadini toscani in un momento di profonda crisi come quello che stiamo vivendo. Un segnale di contenimento dei costi della politica. Certamente la scelta che è stata fatta potrebbe anche ingenerare dei rischi da parte di coloro che avrebbero diritto ad un vitalizio rivalutato con gli indici Istat. Politicamente il Consiglio regionale e questa maggioranza si sono assunti la responsabilità di una scelta che va invece verso la riduzione di questa indicizzazione. Devo dire che da un punto di vista giuridico normativo abbiamo avuto in sede soprattutto di lavori di commissione il conforto da parte di tutti gli uffici che l'operazione che è stata posta in essere è perfettamente legittima e non ha quindi profili di contrasto con la normativa nazionale. Forti di queste speriamo di non avere conseguenze negative e chiaramente il mio vuole essere anche un appello a tutti coloro che godono di questi vitalizi a non calcare la mano su questo tema perché credo che i cittadini toscani in questo momento non capirebbero un atteggiamento di tipo diverso. Avremmo avuto un aumento di costo visto che l'inflazione è stimata intorno al 12% di circa 700 mila euro. Noi siamo invece la prima regione italiana ad aver approvato oggi e ringrazio tutti i colleghi consiglieri una legge che sostanzialmente limita temporalmente l'aumento Istat dei vitalizi. In più abbiamo approvato anche questo all'unanimità un ordine del giorno che impegna la Giunta a valutare nella conferenza Stato-Regioni se è possibile proprio toglierlo definitivamente e azzerarlo. Questa è una valutazione che dipende dal rapporto anche con il Governo. Noi abbiamo fatto tutto questo perché in un momento di difficoltà in cui i cittadini, le famiglie vivono, faticano ancora più del solito il calo energia, l'aumento dell'inflazione. Abbiamo voluto dare un messaggio, un messaggio forte e chiaro che la Regione Toscana si è presa la responsabilità di ridurre un privilegio per pochi. Era l'unico strumento che avevamo a disposizione e lo abbiamo attuato in maniera molto chiaro. Tenete conto che con questa norma si risparmiano circa 600 mila euro di risorse dei toscani. Noi abbiamo lavorato con il legislativo, insieme all'ufficio giuridico, insieme al segretario generale per proporre una norma che in virtù anche di quelle che sono state le scelte, le decisioni in questi anni della Corte Costituzionale, tenesse conto di alcuni indirizzi che sono stati dati. Il primo che la durata deve essere limitata nel tempo e noi abbiamo scelto una durata di tre anni e il secondo punto è che ci sia progressività ed equità. E lo abbiamo fatto perché abbiamo deciso di fare tre scaglioni. L'1% a chi ha un vitalizio superiore ai 3.000 euro, il 2% a chi ha un vitalizio tra i 1.500 e i 3.000 euro e il 3% a chi ha un vitalizio sotto i 1.500 euro. Permettetemi però di fare un appello ai colleghi, gli ex colleghi consiglieri. Noi con loro abbiamo parlato, abbiamo parlato a lungo in questi mesi. Io mi auguro che proprio sulla linea indicata dal Presidente Mattarella ci sia la possibilità che loro facciano un gesto forte e che decidano da soli di non richiedere neanche quell'adeguamento che noi abbiamo dovuto fare proprio per fare una legge che fosse, secondo noi almeno, non impugnabile. Insomma questo è un appello che chiedo a loro a nome di tutti i colleghi consiglieri. È un privilegio dovuto da chi in passato aveva deciso di legiferare questo. È logico che oggi di fronte a un'inflazione come questa, di fronte a un momento difficile come questo, la prima cosa sarebbe stata quella di chiedere proprio ai beneficiari di questo vitalizio di rinunciare. Così ci aspettiamo magari una risposta anche da loro, nel frattempo però il Consiglio regionale ha dato un messaggio, un messaggio quello di dire che fermo restando il vostro vitalizio ma la rivalutazione dell'Istat è quella pensiamo che dovesse essere con più contenuta. Questo era l'unico strumento che ci poteva permettere di arrivare a questo obiettivo. Il mio ordine del giorno, intanto ringrazio tutti i capogruppo perché lo hanno controfirmato permettendomi appunto di poterlo discutere in aula, è quello di andare nei prossimi semestri, di dare mandato al Presidente Gianni nell'accordo Stato-Regioni, di portare avanti proprio questa nostra iniziativa, cioè quello di togliere definitivamente non il vitalizio perché quello non possiamo, ma la rivalutazione Istat. Al tempo stesso, nel momento in cui dovesse esserci parere favorevole, andremo a rivisitare anche la legge regionale del 2019. Questo, visto che la regione Toscana spesso e volentieri è stata promotrice di grandi iniziative nazionali, ci auguriamo che questo il nostro Presidente lo porti veramente a casa proprio perché riteniamo che sia una cosa giusta nei confronti ad esempio delle pensioni che non hanno tutti questi privilegi. Intanto il vitalizio è uno strumento, lo abbiamo detto tutti in aula, ormai obsoleto e superato e forse figlio di un'altra era politica. Il problema è un altro, il problema è che il vitalizio della regione Toscana, e qui c'è un'anomalia, il vitalizio della regione Toscana è un vitalizio che si rivaluta annualmente in base all'Istat. Quest'anno con l'inflazione ad oltre il 12% vorrebbe dire rivalutare di oltre 750 mila euro il vitalizio degli ex consiglieri regionali. Ricordiamo a tutti che gli ex consiglieri regionali percepiscono il vitalizio perché durante la nona legislatura qualcuno ha pensato di fare il bello, in quel momento, il paladino dell'antipolitica, non so che cosa, abolendo i vitalizi ma dimenticandosi di dire che li avrebbero aboliti a partire dalla legislativa successiva alla loro. un primo capolavoro. Detto questo, a me è dispiaciuto che il Consiglio regionale abbia dovuto legiferare per impedire che si rivalutassero i vitalizi del 12%. Mi è dispiaciuto perché stiamo parlando di vitalizi che prendono degli ex amministratori, degli ex consiglieri, cioè persone che in vita loro hanno amministrato e governato la nostra regione, che sanno cosa significa governare in momenti drammatici per il paese come questo, anche se forse in vita loro hanno governato in momenti più floridi, ma sanno cos'è un operaio che protesta sotto la regione perché perde il lavoro, uno studente che protesta, una ditta che chiude, una RSA che si lamenta, lo sanno benissimo. E allora avrebbero dovuto fare una cosa semplicissima, seguire l'esempio del Presidente della Repubblica, della massima carica dello Stato italiano, che ha rinunciato all'adeguamento della propria pensione del proprio vitalizio e fare lo stesso. Avrebbero dovuto rinunciare loro, invece anziché rinunciare hanno inviato una lettera dove si paragonavano ai pensionati italiani chiedendo un adeguamento perlomeno pari a quello che il Governo nazionale aveva previsto per le pensioni minime in Italia. Penso ci sia grande differenza, grandissima differenza tra un pensionato che percepisce la pensione minima e un privilegiato come noi che ha avuto fortuna di guadagnare tanti soldi dalla politica in vita propria. Sì, una scelta giusta, una scelta difficile, però il coraggio di un gruppo dirigente, questo che oggi è in Consiglio regionale, di chi ha guidato questa trattativa, abbiamo avuto il coraggio di andare a ridurre l'importo dei vitalizi alle persone che prima di noi hanno amministrato la Toscana, fosse stato per me avremmo potuto anche eliminare, ma sicuramente andremo in questa direzione perché c'è un impegno congiunto delle forze politiche che va verso il superamento della rivalutazione Istat. Intanto il coraggio di togliere 600 mila euro che saranno destinati invece ai cittadini toscani, al mondo delle associazioni, alla cultura, ai giovani, a tanti progetti che possiamo fare. È assurdo pensare che nel mondo di oggi persone che vivono di un privilegio potessero ancora pensare che questo privilegio potesse essere anche rivalutato. Abbiamo fatto il massimo, siamo l'unica regione in Italia che ha avuto questo coraggio di farlo, credo che si possa andare oltre rispetto al superamento dello stesso strumento, ma intanto oggi è una bella pagina toscana dove tutti i gruppi politici, indipendentemente dall'appartenenza, hanno condiviso l'idea di chiudere una stagione, quella dei privilegi del passato, quanto noi come amministratori non abbiamo questo privilegio, è corretto che sia, questo ci consente di andare a testa alta dai nostri cittadini, sia questa legislatura che quella precedente, male avevano fatto in passato invece a pensare di mantenerselo per sé, pensare di rivalutarselo e poi a quelli dopo togliere. Hanno fatto bene a toglierlo a noi, ma noi facciamo bene ad eliminare il livello della rivalutazione. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una risoluzione per valorizzare il protagonismo dei territori periferici. L'atto di indirizzo di iniziativa della Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali raccoglie e rilegge in chiave toscana gli spunti emersi nella cinquantesima Assemblea Generale della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime, che si è svolta nell'isola di Creta il 27 e 28 ottobre, dove si è discusso dell'uso dei fondi comunitari per le politiche di coesione e per gli investimenti strutturali e del ruolo dei territori nei processi di programmazione e di gestione delle risorse, nel quadro del contesto internazionale attuale e delle sue criticità. Nell'occasione, il presidente della Toscana, Eugenio Gianni, è stato rieletto vicepresidente della conferenza con delega proprio alle politiche di coesione. Il testo impegna la Giunta regionale a ribadire la necessità che le politiche dell'UE vengano elaborate con una dimensione sempre più attenta alle specificità territoriali, prendendo in maggior considerazione la diversità economica, sociale e geografica dei territori dell'UE nella definizione delle singole azioni di intervento e sostegno. Ma è stato un esito molto importante, interessante perché ha sancito ancora una volta la volontà di evidenziare in sede europea, in sede internazionale, la necessità di dare protagonismo e voce ai territori, alle comunità, ovviamente a partire, nel nostro caso, dalle regioni. In quell'assemblea, che era la cinquantesima della CRPM, è stato anche confermato nel ruolo di uno dei vicepresidenti, il presidente della regione toscana, Eugenio Gianni, che avrà una delega molto importante, quella alle politiche di coesione. Nella proposta di risoluzione che in seno alla Commissione è stata approvata all'unanimità, vengono ripresi i temi della conferenza e vengono evidenziati i punti più significativi guardando anche alle questioni che interessano e riguardano la nostra realtà.